Allora, siamo qua, uno albanese e uno pugliese. Di Taranto, buonasera, buonasera. Fratello, te la piace Mercedes o no? No, Mercedes è per albanesi, ma senza dire niente. Però io ho una macchina speciale. Solo 40 pezzi stanno. 40 pezzi? Speciale, edizione limitata. Fammela vedere. Allora, fammela vedere. Fiat 500X, verde opaco. Questa, Fiat qua? Sì, solo 40 pezzi in Italia. In tutta Italia 40 pezzi? Sì. 40 pezzi in tutta Italia. Sono forte proprio. Non sono sicuro. Perché? Questa sera solo 39 puoi trovare. Perché questa sparisce questa sera. Allora.